ciao ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video questa volta invece di parlarvi delle ambulanze modellisticamente parlando che praticamente ho realizzato io in modo artigianale su modello basi vi parlerò di questo splendido modello un volvo volvo 164 e del fine anni 60 inizio anni 70 in scala 1 e 25 prodotto dalla polistil più o meno negli anni 90 modello abbastanza raro che la polistil produceva in due diverse colorazioni della polizia svedese così bianco con le portiere il baule il cofano blu scuro o viceversa i colori invertiti una piccola panoramica del modello sinceramente quando ho trovato questo modello in un mercatino non mi sembrava vero anche se ovviamente non era in queste condizioni l'ho restaurato l'ho restaurato praticamente rifacendo con la stampante 3d ed alcune alcuni altri prezzi tron le luci sul tetto che mancavano o meglio mancava questa di sinistra mancava lo specchietto di sinistra mancava un faro frontale la sirena era spezzata ed ovviamente diciamo con il bicomponente l'ho riparata al meglio possibile un tergicristallo era assente il numero sul tetto il 3 era praticamente scollato l'ho ristampato e l'ho riapplicato la stessa cosa di casi per l'antenna ma la cosa bella di questo stupendo modello in scala 1 e 25 non so se l'ho detto lo ripeto è il fatto che ha tutte le aperture tutte le aperture che modelli di adesso oltre ad essere in metallo si sognano allora cofano motore uno spettacolo a mio modesto parere uno spettacolo andiamo avanti porta dell'autista porta del passeggero comunque dell'altro poliziotto portiere posteriori apribili diamo uno sguardo all'interno davvero meravigliosa scusate per la luce ma purtroppo ho un problema con la luce a led quindi avrete questo riflesso questo sfarfallio vi chiedo scusa fin da ora andiamo nella parte posteriore con il baule apribile dove io con la stampantina 3d ho riprodotto innanzitutto il triangolo nella parte superiore del baule verniciandolo e una tanichetta una tanica a sinistra ho anche intenzione di applicare il fucile e un'altra dotazione ma non ho avuto tempo di stamparlo al momento che ho restaurato il modello la parte superiore del tetto ho dato un colpetto di colore tamia ed un po di lucido il resto a posto così faccio una piccola panoramica se riesco a prenderlo anche dalla parte inferiore ecco qui zoomiamo con la microcamera ok polistille sì eccolo qui perfetto made in italy e vabbè adesso la polistille ex politois e tutt'altra cosa in mano insieme alla burago alle aziende cinesi che comunque fanno un discreto lavoro anche loro grazie grazie per questo per avermi seguito in questo video spero che sia stato di vostro gradimento un like è sempre gradito ciao